Pino, saluto ma sordo, saluto ma sordo Alberto Come faccio? Adesso vedo perché se voglio compro il camper nuovo Ehi, gli ho detto che mi sembra Arisa con quegli occhiali Lui Arisa, la cantante Assomina di più a Ruggeri Adesso, adesso lo riprendo C'è una seta della Madonna Vuoi la coca?